Le prime notizie di venerdì 5 aprile. Voti comprati per 50 euro alle elezioni amministrative 2021. Il sindaco di Trigiano Antonio Donatelli e Sandro Cataldo, marito dell'assessora regionale ai trasporti Anita Mauro di Noia e referente del movimento politico sud al centro, sono stati arrestati e posti domiciliari con l'accusa di corruzione elettorale. Tra gli indagati la stessa Mauro di Noia che si è dimessa dalla giunta regionale pugliese. E a Bari saltano le primarie del centro-sinistra previste per domenica prossima. Il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha annunciato che non ci sono più le condizioni per svolgerle seriamente e che il movimento sosterrà la candidatura di Michele Laforgia. Ancora due giovanissime vite spezzate sulla strada. Un ragazzo di 19 anni Giovanni Perone di Vieste è morto finendo contro un muro con la sua Ford Fiesta incontrata a Defensola sulla provinciale 52 tra Vieste e Peschici. Era in compagnia di una ragazza di 16 anni che è rimasta ferita e a Mottola in provincia di Taranto Carmelania Impedovo, 17 anni, ha perso la vita nello schianto della Fiat 500 su cui viaggiava contro un muretto. Altre quattro ragazze che erano con lei sono rimaste ferite, due di loro sono in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto sulla provinciale 252 nei pressi di Mottola dove per oggi il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Una donna disabile di 50 anni in carrozzina è stata investita da una Fiat Punto nel centro di Manduria ed è ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Un operaio di 64 anni è scivolato nel cantiere durante i lavori per la Fogna Bianca a Novoli e si è ferito per fortuna in maniera non grave. Il proprietario di un'abitazione in fiamme e il suo cagnolino sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco all'Izzanello in via dei Giorgi. I pompieri sono entrati con gli auto respiratori. Il rogo era partito da una scarpiera. Allarme rientrato per la donna di 39 anni scomparsa martedì sera a Ginosa in provincia di Taranto. Sta bene ed è tornata a casa. Si era allontanata volontariamente. Tre persone, due uomini di 46 e 47 anni e una donna di 32, sono state arrestate a brindisi dai carabinieri per spaccio di droga e tentata estorsione. L'indagine era partita dall'overdose di un tossicomane. A Terlizzi la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 9 milioni di euro a una società che commercia prodotti elettronici. I due amministratori sono stati denunciati per false fatturazioni ed evasione fiscale. Un'autocarrozzeria abusiva è stata scoperta dai carabinieri forestali. A Monopoli il titolare non era in possesso di alcuna autorizzazione amministrativa, per lui multa da 5.000 euro. Per potenziare gli organici in vista della stagione estiva, Aeroporti di Puglia assumerà 80 addetti di scalo da destinare 40 nel lab di Bari e 40 a brindisi. Saranno selezionati agenti di rampa addetti al check-in, all'imbarco e alla biglietteria. Trapianto di cuore numero 200 al Policlinico di Bari. Il ricevente è un uomo di 71 anni originario di Santeramo che ha già superato la fase d'osservazione. Il primo trapianto risale al 2002. Meteo, cielo prevalentemente sereno per tutta la giornata sulla Puglia. temperature che raggiungeranno i 25 gradi sul tavoliere e sull'arco ionico interno, venti di maestrale e mari poco mossi. Queste le prime notizie di oggi appuntamento a domani.